Un grande evento di piazza ha caratterizzato la presentazione delle nuove divise da gara dell'Umana Reier per la stagione sportiva 2015-2016. Per una volta Piazzetta Coindimestre è stata infatti eccezionalmente trasformata in un campo da basket Granata appositamente realizzato da Geoplast. Ad attirare l'attenzione di appassionati e passanti ci ha pensato poi il track da 20 metri di lunghezza di RA, sponsor tecnico Oro Granata, a bordo del quale si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie durante la quale è stata svelata la grande novità di quest'anno, la presenza del logo RBM e salute sulle divise maschili per il campionato e a fianco del title sponsor umano. Presentato anche il sopramaglia, anche questo sponsorizzato da RBM, appositamente realizzato per la Supercoppa di Lega della squadra maschile. La stessa grafica del sopramaglia che raffigura le caricature dei giocatori in piazza San Marco è stata utilizzata per realizzare una speciale t-shirt che verrà regalata a tutti i tifosi che assisteranno all'esordio casalingo in campionato, il programma l'11 ottobre e che vedrà in campo prima l'Uman Rayer femminile e poi l'Uman Rayer maschile entrambe al palasporto all'iere su dimestre. Centinaia le persone che si sono ammassate quindi ai bordi del campo allestito in piazzetta Coen e ai piedi del track RA per assistere alla presentazione delle maglie e delle due prime squadre Uman Rayer tra musica, palloncini e rogranata e applausi. Sul campo da basket si sono sfidati prima i bambini del mini basket Uman Rayer e poi c'è stato spazio per l'Umana 3 Point Contest durante il quale giocatori e giocatrici delle prime squadre hanno gareggiato assieme a giovani tifosi e poi l'RBM Slam Dunk Contest che ha visto sfidarsi quattro dunker del territorio. Entrambi i vincitori delle due sfide si sono giudicati un pallone Rayer autografato da tutti i giocatori e le giocatrici delle prime squadre ma a vincere è stato soprattutto il grande evento che ha conquistato appassionati e anche semplici passanti attirati dal grande allestimento realizzato per l'occasione.